Tocca alla Juventus riscattare l'onore del calcio italiano dopo la sconcertante sconfitta di ieri sera allo Stadio Olimpico della Roma, travolta dal Bayern Monaco con il tennistico punteggio di 7-1. Questa sera i bianconeri guidati da Allegri sono attesi ad una impegnativa trasferta in terra greca allo Stadio Karaskakis del Pireo contro la formazione dell'Olimpiacos. È uno scontro diretto ad eliminazione e bisogna fare più punti che si può, dice il tecnico bianconero. Decisiva no, ma importante sì. È da tanto che non vinciamo in trasferta, ma è altrettanto vero che abbiamo giocato soltanto 4 gare dopo Glasgow e quindi ci può stare. Sarà una partita in cui dovremmo dare indicazioni precise e convincenti se abbiamo l'ambizione di arrivare tra le prime 8 d'Europa.